segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te invece è che ellie schleim col pd ha protestato a roma davanti alla sede della raid di viale mazzini ed è una protesta paolo mieli contro tele meloni come viene chiamata e come è anche ripetuto stasera la segretaria del partito democratico è un'iniziativa giusta calenda per esempio ha realizzato dicendo che loro non fanno sit in loro di azione perché non sono studenti del tasso del liceo tasso io penso che ellie schleim l'ho detto più volte anche in questa sede sia un personaggio sorprendente se si limitasse a mandare quattro gatti davanti alla rai non erano tantissimi stasera non è che no cinque gatti ti concedo cinque gatti sei e finisse lì sarebbe una figura così io penso che invece siccome lei è intelligente da sorprese lei da sorprese come quando a gubbio si è presentata il giorno dopo ha detto sono andato al cinema e loro sono rimasti tutti zitti è una persona a suo modo geniale energetica e geniale penso che questo sia l'antipasto perché alle prossime trattative per definire i posti della rai lei non parteciperà dirà guardate il pd non partecipa non nomina neanche un vice capo redattore certo se poi il problema è che ha già partecipato lei dice che hanno partecipato quelli prima di lei seppre che su questo ha ragione schlain no lei dice che tutto non ma voi avete allora leggiamo tutto il fatto quotidiano leggiamo tutto il fatto quotidiano prima leggiamo il domani e poi il fatto quotidiano su fatto quelli hanno c'era un elenco sterminato di dirigenti della rai del pd nominati negli ultimi non negli ultimi dieci mesi non negli ultimi sono andato a controllarli e ha ragione emiliano vedo secondo me se lei offre questo antipasto per farci un po sorridere e poi va dritta come io mi immagino e come loro li ha mandati a quel paese dicendo sono andato al cinema così li manderà a quel paese dicendo io non nomino più dirigente e allora sarà una rivoluzione me lo concedi sì se dovessi essere così c'è stato solo bersani diciamo che ha fatto una cosa rivoluzionaria di questo tipo